Gruppo Cimbali è un'azienda leader nel settore delle macchine per caffè, espresso e cappuccino professionali, leader nel mondo. Esportiamo circa l'80% del nostro fatturato in oltre 100 paesi. Noi da Host ci aspettiamo un riscontro soprattutto internazionali, quindi visitatori da tutto il mondo. Abbiamo una presenza importante con uno stand di oltre 500 metri quadri, uno stand dove noi quest'anno abbiamo scelto di presentare soprattutto i plus da un punto di vista di tecnologia e da un punto di vista di offerta in generale. A Host siamo venuti anche quest'anno con l'aspettativa che abbiamo ogni volta, ogni due anni da Host. L'aspettativa è quella di incontrare il mondo dell'ospitalità e quando parlo del mondo dell'ospitalità parlo di visitatori e clienti da oltre 100 paesi. Questo per noi è un appuntamento importante, è un appuntamento che ci porta a coordinare tutti i progetti di sviluppo e a sincronizzarli rispetto a questo ottobre che capita ogni due anni dove noi come azienda esponiamo il meglio di quello che siamo riusciti a progettare.